Quest'Ateneo della Cattolica sì, più che altro perché è molto aperto all'internalizzazione, quindi c'è molto internazionale, molti sbocchi poi lavorativi o comunque... Io ero interessata per Economia e International Management, quindi il profilo internazionale di Economia Aziendale. Ero venuta l'anno scorso, solo che poi mi sono iscritta in Cattolica a Milano, sempre Economia Aziendale, però adesso vorrei fare il passaggio, quindi... L'Economia Aziendale che c'è a Milano, il corso di Milano, è Economia Aziendale Basilare nel senso, invece questa è molto più aperta anche dai corsi, così è molto più aperta diciamo appunto alla proiettazione all'estero. Io ho fatto Scienze dell'Educazione a Parma, poi ho cambiato completamente, cioè ho detto basta, ho avuto un attimo un anno un po', non sapevo bene neanche io cosa fare, mio padre ha un'azienda agricola e allora adesso ho deciso di fare Economia Aziendale per seguire un po' di contabilità e queste cose qua.